ciao a tutti finalmente ho finito la revisione come avevo promesso della mia agenda 2030 in cui ho rivisto un po tutti gli obiettivi se quelli che mi seguono sulla pagina facebook conoscono un po le impostazioni delle mie schede a cominciare dalla presentazione come potete vedere c'è la pagina in italiano e in lingua inglese anche la poesia tradotta e poi via via ci sono i vari obiettivi la struttura di ogni obiettivo è sempre quella la presentazione dell'obiettivo con la spiegazione in termini semplici poi di solito c'è un brano di narrativa oppure una poesia la pagina social in cui inserisco un po le giornate delle ricorrenze civile collegate a quell'obiettivo oppure consiglio dei video dei cartoni per bambini con il codice QR sempre correlato all'obiettivo e poi c'è la canzone ho inserito una canzone per ogni obiettivo sempre contestualizzata e sempre scelte veramente con molta cura con grande ricerca in modo che siano accattivanti e gradite bambini e per finire c'è sempre la pagina crilla per ogni obiettivo il linguaggio estremamente semplice e trasversale al massimo le finalità infatti dell'educazione civica così come oggi viene ci viene richiesta e della trasversalità quindi le attività fatte in inglese con il crilla saranno varie di geografia di matematica musica storia e quant'altro e anche i brani per lo più scelti sono estremamente attuali ogni pagina chiaramente ha un'attività correlata di solito in fondo alla pagina sono parecchie schede sono 127 schede ma come dico sempre non sono necessariamente da stampare innanzitutto perché ognuno può scegliere le attività e le schede che ritiene idonee al proprio contesto e poi perché io per lo più mi limito a fornire spunti spunti di attività infine non ve le sto a far vedere tutte vedete è venuto un po quasi un libro e fino e se vi interessa la ritrovate nel mio shop e per chi la prende c'è un omaggio che mi sono divertita a fare un calendario da prendere in classe delle ricorrenze civili 2021 2022 e chiaramente devo correggere perché ho fatto partire da settembre un caritario solo scolastico ogni mese ha la giornata che indico cerchiata e c'è sempre il logo dell'agenda 2030 e una frase che si riferisce a una delle giornate per ogni per ogni mese è sembrato carino penso che sicuramente lo appenderò in classe questo è tutto ciao a presto alla prossima